Storie di volontariato Storie di volontariato vicentino, già di per sé il titolo dice tanto. Oggi però ci vogliamo concentrare sul racconto della volontà di una città, quella di Vicenza, che ha saputo aprire le braccia a chi dalla guerra in questo momento vuole fuggire. TV a Vicenza con il CSV insieme hanno deciso dunque di dedicare l'intera puntata proprio all'emergenza dell'Ucraina. E sarà proprio il direttore del centro di servizio per il volontariato, Maria Rita Dal Molina, alla quale ovviamente do il benvenuto, che ci spiegherà di quanto prontamente e tempestivamente le associazioni di volontariato hanno saputo agire creando una vera e propria rete di accoglienza. Insieme a lei per raccontare questa storia tanto significativa quanto purtroppo drammatica, le due protagoniste della puntata, Marina Sofilcanic dell'associazione Dialogue e Francesca Lomastro di Ponte Miss. Buongiorno e un benvenuto ad entrambi, grazie per essere qui. Rita, come sempre, adesso torno da te perché voglio iniziare proprio con te. Tante volte abbiamo detto volontariato in prima linea. Ecco, io penso che mai come oggi questa frase sia vera. E dunque vorrei chiederti di raccontarci del tavolo operativo che è stato instaurato proprio in questa occasione di emergenza. Intanto ben ritrovata Anna, è sempre un piacere poter partecipare e vivere queste nostre puntate con la volontà di esprimere quello che un territorio sa fare. Da emergenza a emergenza, non abbiamo ancora finito l'emergenza della pandemia, ci troviamo in piena guerra, una guerra assurda che coinvolge tante persone che stravolge una popolazione. E questa situazione grave ha fatto sì che noi abbiamo lanciato un appello a tutte le associazioni di volontariato della nostra provincia, hanno risposto in 34. In particolare il Ponte Miss ci ha chiesto un aiuto concreto e quindi l'abbiamo subito supportato e successivamente anche l'associazione Dialogue. Perché? Perché sono associazioni che hanno a che fare quotidianamente con quella che è la popolazione ucraina. 34 associazioni, 25 amministrazioni comunali. Siamo in contatto perenne con Prefettura, Questura, quindi vuol dire ogni giorno. Dobbiamo ringraziare soprattutto la Fondazione OTB, in particolare la Vice Presidente Arianna Lessi, che ha messo a disposizione la sua struttura, pagando viaggi medicinali e supportando quella che è l'organizzazione del Centro Servizi per il Volontariato di Vicenza. Quindi una grande rete, importante, ma dobbiamo ringraziare anche 59 famiglie che hanno accolto i primi 260 rifugiati, chiamiamoli sfollati di guerra, composti quasi tutti da mamme con bambino, nonni, due case di accoglienza. E quindi tante persone che sono arrivate, stanno arrivando anche altri pullman, quindi stiamo gestendo 360 persone nella nostra provincia. Una provincia che ha risposto in modo solidale, col cuore aperto, sono persone che hanno bisogno di tanto amore, arrivano qui che è pazzesco leggere i loro occhi, vedere in parte la tragedia di una guerra e il dolore per quello che hanno lasciato a casa, i familiari, i papà, i fratelli. La guerra se la portano nel cuore, non vedono l'ora di tornare nella loro casa, questo è importante. Per loro sono dei passaggi temporanei da noi, quindi accoglienze temporanee, col decidere di tornare presto a casa. Gli adolescenti che sono arrivati si sono già collegati con le loro scuole in DAD, altri piccoli stanno andando alle scuole materne, gli elementari. una grande rete di famiglie, veramente ce lo siamo detti con Marina e Francesca, che è proprio la risposta importante di una comunità verso altri cittadini, altri fratelli, per far sì che trovino un po' di calore, un piatto caldo, un'accoglienza, soprattutto questo l'accoglienza. E fortunatamente quindi c'è questa vera e propria intenzione di collaborare tra tutti. Marina, far arrivare queste famiglie, queste persone qui nel Vicentino, di certo non deve essere semplice, però immagino ci siano tantissimi ostacoli. Sì, praticamente vorrei dire che quelli che sono arrivati già alla Dogana, possiamo dire che loro sono già salvi, però c'erano tante famiglie che non hanno potuto neanche uscire da Chia, uscire da altre città che sono stati invasiti dall'armi, diciamo, sappiamo di chi. La famiglia che ha aiutato tanto di poter trovare, raggrupparli in un posto di Città-Gitomer, che è la famiglia Vihovski, la moglie e il suo marito, l'hanno lavorato anche di note per poter fare questi listi delle persone, e mandare due autobus, un autobus già completo, delle persone che non hanno potuto fare da solo queste cose, perché sappiamo che ci sono le persone che reagiscono subito e partono e sopravvivono perché sono predisposti per sopravvivenza. E ci sono quelli che si chiudono nel proprio guscio e aspettano cosa succede dopo. E proprio per quelle persone, io personalmente ci sono rivolta alla Francesca, che la Francesca mi ha portato dalla Rita, per collaborare insieme, per aiutare le persone che non hanno potuto di aiutarci da soli, di poter scappare dagli posti molto difficili e pericolosi per loro famiglie e per loro bambini, le mamme e i bambini. Le liste si facevano di notte, le persone si chiamavano continuamente, si mandavano i numeri di telefoni che potevano richiamare queste persone che facevano come coordinatori il riferimento lì in Ucraina. E vorrei ringraziare anche al sindaco di Città Gitomer che ha fatto un gran lavoro aiutando a spostare, perché se qua si trovano le persone che possono pagare l'autobus, purtroppo lì è difficile trovare. C'è il problema di benzina, di gasolio, del trasporto, perché è pericolo dappertutto. Di certo appunto molte difficoltà, non solo dal punto di vista organizzativo, quanto anche psicologico. Fortunatamente, Francesca, il ponte tra Ucraina e Vicenza è un ponte duraturo, lungo, vero? Sì, direi di sì. È proprio un ponte solido e è nato nel 98 ufficialmente, quindi è nato per i bambini di Cerno, in sostanza, per quei bambini per i quali sembrava che l'unico aiuto possibile fosse il soggiorno in un'area non contaminata. Siamo stati tra i tantissimi comuni, associazioni, stati che si sono mossi per questo, cioè siamo stati anche noi e abbiamo portato nel tempo, abbiamo avuto un numero di presenze altissime, siamo stati una delle associazioni che ha portato più bambini in Italia, bambini ai quali ci affezionavamo, quindi con un'accoglienza, questa volta veramente molto profonda, che ha fatto sì che i bambini arrivati allora diventassero praticamente parte della famiglia, anche perché abbiamo scelto i bambini meno fortunati. i bambini di istituto, di internato, i bambini di casa e famiglie, i bambini di condizione disagiata. È molto bello quello che è successo, perché questi legami molto forti influiscono anche sulla emergenza presente. Da noi moltissimi si sono organizzati, il nostro centinaio di persone che sono arrivate, sono arrivati quasi tutti da soli, perché sapevano dove andare, perché sono le nostre ex bambine che sono ritornate. Sapevano di avere un punto di riferimento. Avevano un punto di riferimento e sapevano, erano in contatto con la famiglia, si sono riuscite a muovere quasi tutte da soli, non tutte, noi abbiamo un referente, anche noi in Ucraina, anche perché i nostri bambini venivano da tutta l'Ucraina centro-orientale. E' bello perché sono rientrati in famiglia e le famiglie sono molto contente di questo. Anche perché, Marina, l'obiettivo in questo momento non è solamente quello di portare queste persone qui nel Vicentivino, bensì anche di riportarle ad una situazione di normalità, quindi stare accanto a queste famiglie, a queste persone durante tutto questo periodo. Io vorrei dire da parte di tutti gli ucraini che sono qua, perché mi chiamano e mi rivolgono, che sono accolte in una maniera molto generosa e non si aspettavano di trovare una cosa di genere. Per trovare le famiglie pronti di vivere insieme la situazione, di capirli e di capire che loro hanno voglia di tornare già in Ucraina, perché sinceramente tantissimi sono arrivati, tantissimi, sono arrivati che la situazione era un po' più leggera che si sta trovando adesso lì in Ucraina. Adesso, per esempio, ci sono le case che non si trovano più e le persone non sanno neanche che le case sono distrutte. la nostra associazione Dialogue si chiama Dialogue per poter dialogare tra una nazionalità e l'altra. Ci siamo qui per aiutare, per capirci, per mettersi dentro paniche le famiglie italiane che accolgono e anche le famiglie che arrivano. Collaborazione molto alta. Guarda, che io non posso neanche dire che sentimenti trovo quando traducco e vedo le persone che si preoccupano di salute, di benessere psicologico, delle persone che arrivano. che non è facile. No, assolutamente. Una situazione non è facile per tutti e due parti, non solo per ucraini che scappano, però anche per italiani che accolgono. Aprire la porta nella stessa casa e accogliere la persona come fosse familiare, parente, questa è una grande cosa, di un grande cuore e di grande accoglienza del popolo italiano che ha sempre fatto vedere la sua generosità e possibilità di collaborare in tutti i modi. E questo sicuramente è un aspetto molto bello di questa situazione, come abbiamo detto tante volte, appunto, drammatica. Stiamo parlando quindi dell'Ucraina, purtroppo per la guerra, però rimpiangiamo anche una terra di arte, di paesaggi e anche quindi il ponte culturale. Dobbiamo parlarne, vero Francesca? Sì, noi come associazione siamo un'associazione umanitaria e culturale, è uno strano abbinamento, ma ci è sembrato molto importante quello di accogliere conoscendo l'altro, per cui ci siamo interessati subito di quella che è la storia dell'Ucraina, la storia della cultura. E devo dire, anche rispetto alle narrazioni che vengono fatte adesso, che si sentono fare da più parti, soprattutto da quella russa, di quelli che sono i rapporti tra i due paesi, il fatto di aver approfondito anche storicamente la realtà di quella che è stata, soprattutto nel Novecento, ma non solo, anche prima, e questo ci dà una chiave di lettura molto importante. Ad esempio, noi conosciamo poco, la grande carestia del 32-33, sotto Stalin, loro la chiamano Holodomor, dare la morte per fame. Sono morti dai 4 milioni e mezzo ai 7 milioni, ma forse anche più di 7 milioni, di contadini ucraini. In realtà, volutamente, perché l'Ucraina esportava il grano quell'anno, non c'era un problema meteorologico di cattivo raccolto, è stata la decisione del governo centrale, quindi di Mosca, di punire l'Ucraina, di punire i contadini che erano considerati il centro della nazionalità, e di togliere all'Ucraina ogni velletà di essere indipendente. Quell'indipendenza che vediamo oggi così sostenuta dal presidente Zelensky. Quindi, conoscere la storia ci permette di capire e non è stata l'unica tragedia che ha conosciuto l'Ucraina. Noi tra poco festeggeremo l'anniversario di nuovo di Chernobyl, il 26 aprile. Conoscere la storia, appunto, dovrebbe anche aiutare poi a capire come agire nel futuro. Rita, concludo come sempre e con te. Possiamo parlare in questo caso di un volontariato diffuso che sta coinvolgendo veramente tutti, l'abbiamo detto tante volte in questa puntata, collaborazione. E io penso che proprio in questo caso il motto del CSW sia più che appropriato. Certo. Accoglienza diffusa, come hai detto tu, comunità, famiglie, istituzioni, una rete che insieme può fare la differenza. Quindi un grande grazie a tutti per l'aiuto, per sostenere questa grande azione vicentina che veramente può dare fiducia, speranza a questi tanti bambini che sono poi il futuro del mondo. Rita, grazie mille per essere stata con noi. Marina, Francesca, grazie mille perché in questa situazione così delicata la vostra storia, il vostro racconto è stato veramente utile per tutti noi. Grazie per la vostra presenza. Un ringraziamento va poi a tutti voi che ci avete seguiti finora. Appuntamento con la prossima puntata di Storie di Volontariato e Vicentino. A tutti. Arrivederci. Grazie a tutti.